Sicuramente le difficoltà dall'emergenza sanitaria e dalla gestione del contagio Covid sono importanti all'interno di queste strutture. Diciamo che abbiamo meno difficoltà laddove le strutture sono piccole, quindi laddove dobbiamo gestire un piccolo appartamento dove il nucleo familiare è ristretto. Comunque è famiglia, quindi parliamo di una mamma, un papà, i propri figli. Lì c'è un'attenzione diversa e forse una gestione più semplice. Qui è molto difficile parlare, pensare che con la mascherina ci si può proteggere da un virus. Parliamo di persone che vengono da storie e paesi dove tutti i giorni si muore senza sapere un perché. Quindi certamente quello che riusciamo a trovare come appiglio è che in ognuna delle comunità abbiamo sicuramente delle persone che ci seguono e sono forse anche un po' più grandi, un po' più adulti rispetto ai ragazzi più giovani, che ci aiutano a mediare e che quindi fanno da esempio per gli altri. Ma per quello che hai potuto percepire in questi anni, che storie hanno portato qui nel nostro tessuto sociale? Allora, quello che ci ha toccato di più sono sicuramente le storie di violenza che ci sono dietro. Non solo da parte di ragazze, di ospiti di genere femminili, ma anche dei ragazzi che sono giovanissimi perché veramente arrivano dei ragazzi veramente giovani. Parliamo anche di minori di 18 anni con delle storie di violenza familiare veramente, veramente importanti. Parliamo di giovani venduti allo zio, venduti per pochi soldi oppure costretti a fare dei lavori veramente duri e tutti con un unico sogno, quella barca. Ci raccontano tutti il sogno di questo viaggio come una scommessa per la vita e questo ci ha toccato a tutti profondamente. Sul nostro territorio com'è stata l'accoglienza che hanno ricevuto? All'inizio e ancora adesso per alcune persone, soprattutto le più chiuse, le più timide, è ancora molto difficile fidarsi e affidarsi all'altro. La vera scommessa è proprio questa, poi forse questo anche all'interno delle nostre comunità. Per loro lo è un po' di più. I momenti più duri sono sicuramente quelli sul lavoro e quindi quelli sull'inserimento lavorativo. Lì non ci si può permettere errori.